A tutti voi bentrovati, oggi martedì 10 di giugno, le notizie. Omar Turchi, l'uomo che ha travolto e ucciso Francesco Saccinto di Corinaldo, è stato condannato dal Tribunale di Ancuna a sette anni di reclusione e a risarcimento danni di 800.000 euro. Nel dicembre 2013 era evaso dai domiciliari per acquistare droga, ma venne arrestato nuovamente dai carabinieri. La famiglia Saccinto, tramite illegale, ha già da tempo espresso la volontà di devolvere l'ammontare del risarcimento in beneficenza. Un disoccupato con moglie e due figli a carico ha tentato di uccidersi con il gas discarico a bordo di un'auto parcheggiata a Fano. È stato salvato dai carabinieri che hanno spaccato un finestrino della vettura e l'hanno tirato fuori appena in tempo. L'aspirante suicida, 53 anni, è ora ricoverato in ospedale, vive a Senigallia. La moglie aveva telefonato al 112 preoccupata perché il marito si era allontanato da casa minacciando un gesto estremo. È stato assolto il 62enne marocchino, arrestato dai carabinieri per il furto di elettrodomestici in via Baroccio durante l'alluvione. Come dimostrato dal legale del 62enne, l'uomo di lavoro esegue la raccolta di ferro ed elettrodomestici, pertanto avendogli visti abbandonati in strada ha pensato fossero da buttare. Sabato prossimo a Senigallia, convention dell'Avis. Vediamo. Sabato 14 giugno a Senigallia, decima convention delle strutture regionali di coordinamento di medicina trasfusionale e celebrazione della giornata mondiale del donatore di sangue. Questo incontro è finalizzato a portare intorno ad un tavolo tutti i più importanti responsabili dei sistemi trasfusionali regionali, quindi i centri regionali di coordinamento di ciascuna regione, insieme al responsabile del Centro Nazionale Sangue, del Ministero e tutti i presidenti delle associazioni e federazioni nazionali dei donatori di sangue. In questo incontro vengono trattati i temi prevalentemente di carattere economico, ovvero la definizione dei costi di produzione degli amocomponenti ed in particolare del plasma per capire dove è il punto di convenienza rispetto al mercato del prodotto nazionale. Noi stiamo lavorando affinché l'Italia raggiunga l'autosufficienza completa dei farmaci che si derivano dal plasma senza dover ricorrere al mercato internazionale. Il tema è legato al sangue per salvare le vite, chi dona la vita, per le mamme, per i partorienti. e si lega molto alla nascita dell'Avis perché nel 1927, quando nacque a Milano l'Avis con il dottor Formentano, era un ginecologo e fu proprio per la scintilla che fece scattare questa molla per cercare i donatori volontari periodici come lo siamo oggi, fu proprio la morte di una mamma. Quindi in qualche modo siamo ritornati alle nostre origini. Ma il sangue serve per tante altre malattie, sempre di più, in modo anche diverso, ci stiamo dedicando al plasma, alla raccolta del plasma, abbiamo avuto questa campagna da quest'anno vado in modo il giallo che si lega anche alla convention dei generi regionali sangue che avviene proprio nei giorni precedenti a questo evento della giornata mondiale del donatore. Sono state triplicate le linee del trasporto pubblico al servizio del lungomare, con corse ogni 30 minuti e fino all'1.35 di notte. Cinque linee azzurre che girano tra il lungomare e la statale, coprendo l'intera riviera da Cesano a Marzocca. Nell'ambito delle iniziative previste per la quattordicesima edizione di Sottosopra a Senigallia, dal 9 al 14 giugno, mercoledì 11 alle 16 alla Rotonda Mare si terrà il convegno dal titolo Il ruolo dell'agroalimentare per il recupero e l'inserimento di persone con disagio psicosociale, una sfida per la società nell'Europa 2020. È tutto, non ci sono ulteriori notizie, grazie e ci risentiamo domani.